Adesso la cronaca, oltre 40 kg di sostanza stupefacente, 132 piante di canapa sono stati sequestrati nell'ambito dell'operazione Flying Drug dai finanzieri della Guardia di Finanza di Falconara Marittima in collaborazione con i funzionari dell'agenzia Dogane Monopoli di Falconara Aeroporto. Venduti su siti internet e social network, marijuana e hashish venivano poi spediti tramite corriere in tutta Europa. Le indagini hanno permesso di individuare 7 persone di età compresa tra i 25 e i 60 anni, mittenti delle spedizioni e residenti nelle province di Fermo, Macerata e Chieti. Sono state denunciate la procura di Ancona per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le perquisizioni disposte dalla procura nei locali degli indagati sono state eseguite dai finanzieri nei comuni di Porto Sant'Elpidio, Civita Nova Marche e Ortona e hanno portato alla scoperta di altri 31 kg di marijuana, 250 g di hashish e 132 piante di canapa coltivate in un appezzamento di terreno di Ortona. Lo stupefacente sequestrato, una volta immisso sul mercato, avrebbe fruttato circa 410 mila euro.